cari amici onzi miei bentornati qui su mandra gaming il canale più malato del tubo ragazzi perché anzitutto spero che abbiate passato insomma le feste come si conviene un attimino che spengo le casse perfetto ragazzi quindi spero abbiate passato un buon natale un buon capodanno una buona befana dovete sapere che il vostro mandra dal 26 dicembre fino grosso modo al 5 gennaio è stato male voi mi avete detto mandra rimetti di presto eccetera però io vi ringrazio davvero perché durante la mia malattia che per fortuna insomma era febbre eseguitata poi da altre migliate di cose che sono finite per fortuna il 5 gennaio perché oggi siamo al 7 gennaio quindi appena finirò questo vlog cercherò di uploadarlo il prima possibile perché avevo voglia di fare questo vlog innanzitutto per ringraziarvi davvero di tutti i vostri messaggi non è mancato il vostro affetto nonostante dal 26 fino ad oggi poi non ci sia stato nessun video nuovo sul canale quindi poi intorno al 26 27 insomma è successo qualcosa di incredibile avete cominciato a farvi regali su steam veramente dei giochi voi vorreste che io giocassi quindi è quello che succederà quello che accadrà molto presto ragazzi quindi vi ringrazio davvero di tantissimi regali ragazzi anche anche belli costosi insomma 6 7 euro alcuni di voi altri giustamente meno ma l'importante è che gioco insomma sia sia un vostro regalo un vostro pensiero da parte vostra per me totalmente per il nostro canale quindi è un ulteriore modo di supportare quello che è poi il canale quindi io ho deciso che è giusto che meritiate che pubblichi questi giochi da parte vostra perché se mi li avete regalati evidentemente vorreste che il vostro mandruccio viva questo tipo di esperienza videoludica che sicuramente accadrà mi sposto un pochino al centro benissimo scusate sicuramente ci sono ancora i costumi della mia della mia lunga teggioenza e anche perché questi giorni dovevano servire anche magari se avessi avuto un po più di tempo libero e non fosse stato male per registrare qualcosa per avvantaggiarmi invece purtroppo non è successo nulla di tutto ciò ragazzi però cercherò sempre comunque di darvi un video al giorno per i vostri regali ho deciso di aprire una rubrica a parte però che ruberebbe un po di spazio alla mandrandom cioè nel senso all'inizio pensavo che avrei messo i vostri giochi all'interno della mandrandom solo che mi sembra giusto invece dare proprio il nome di colui che mi ha regalato appunto un qualsiasi videogioco con tanto di di nome sul sul titolo al posto della mandrandom quindi fin quando ci saranno giochi in regalo che verrà tolto spazio un po alla mandrandom però va benissimo così ragazzi quindi davvero vi ringrazio davvero di tutto il vostro mitico supporto cioè appena avete saputo che non stavo bene mi avete mandato un sacco di messaggi mi avete dato un sacco di consigli per il canale ovviamente quando vi dico che siete la mia primissima famiglia videoludica siete i miei amici io intendo questo perché voi vi comportate come amici quindi quando vi dico che siete gli amici penso che non esagero mai perché gli amici fanno questo e voi in qualsiasi caso vi date da fare per supportarmi sempre e comunque in qualsiasi contesto quindi davvero vi ringrazio davvero spero abbiate passato buonissime feste detto ciò ragazzi questo vlog serve anche per purtroppo tra virgolette per darvi degli aggiornamenti per quello che riguarda youtube youtube sta veramente collassando ragazzi perché si prevede verso fine gennaio delle importanti modifiche da parte di youtube e delle persone che sono appunto che hanno una partnership con tgm ma insomma i principali network che danno appunto le partnership a tanti canali quindi che siano di gaming o meno quindi cercherò di essere breve per non per non tediarvi troppo diciamo che da fine gennaio si vocifera che tutti i canali verranno divisi in due categorie canale canale youtube manager e canale youtube affiliato quindi ci sono delle importanti differenze perché ragazzi qui si rischia il canale sul serio perché innanzitutto non so a seconda della partnership che un canale ha se possiamo decidere noi di essere affiliati o manager perché ci sono delle sostanziali differenze tra queste due tipologie ve le spiego subito al volo ragazzi io quando l'ho saputo mi sono un po rattristato di questa cosa perché il canale abbastanza rischio ragazzi io non ve lo non ve lo nascondo mi dispiacerebbe mortalmente proprio se succedesse qualcosa a mandra gaming ragazzi veramente onestamente comunque il canale manager praticamente ci da non cambia nulla cioè nel senso ci darebbe comunque sia la possibilità di fare l'upload dei nostri video e di renderli subito pubblici senza passare tra virgolette da nessun controllo da parte di youtube e soprattutto cioè no soprattutto perché tanto io non è non è questo il mio scopo invece per tanti altri lo è ragazzi infatti stanno diventando tutti bianchi come cenci perché hanno paura delle loro monetizzazioni praticamente avere un canale manager ti permetterà di fare tutto quello che si fa ora quindi fare l'upload renderli subito pubblici ma senza nessun tipo di controllo da parte di youtube questo cosa vuol dire che se mi fanno una segnalazione che da fine gennaio in poi non ci saranno più semplici segnalazioni ma diventeranno direttamente copyright strike se tu hai un canale manager un canale youtube manager quindi al terzo copyright strike il canale si chiude definitivamente vieni cacciato fuori dal tuo network ora c'è da capire no il canale viene sicuramente chiuso perché alcuni dicono anche che si viene semplicemente stromessi dalla partnership e il tuo canale rimane vivo ma non credo sia proprio così quindi qualsiasi tipo di segnalazione se corredata poi da fatti che esistono diventerà direttamente un copyright strike perché fino adesso noi abbiamo semplicemente per la maggior parte delle volte per fortuna delle semplici dei semplici avvisi di contenuto di copyright da parte di altre persone quindi che non è un vero e proprio copyright strike invece c'è anche il canale youtube sezione affiliati che probabilmente verrà assegnato la maggior parte dei canali che esistono su youtube che ci permetterà sempre di fare l'upload dei video e intanto il citofono suona ma tornoci qua ragazzi come al solito robe inutili da parte di gente inutile però vi stavo dicendo il network affiliati ragazzi ci permetterà di fare l'upload dei video però è una sezione molto meno rischiosa nel senso che se io faccio l'upload di un video oggi dovrà prima passare dal team di youtube per vedere se contiene qualsiasi sorta di copyright strike qualsiasi sorta di contenuto di terze parti se questo non avverrà mi arriverà una mail da parte di youtube che mi dà l'ok permesso di poterlo rendere pubblico e quindi monetizzarlo se io lo monetizzo cioè se io lo rendo pubblico prima del che youtube faccia insomma i suoi giri personali per vedere insomma se c'è problema di copyright o meno il video non potrà essere monetizzato il che è un problema relativo nel senso che comunque per me la monetizzazione non è importante però se un video mi frutta tra virgolette 20 centesimi non vedo perché io debba darli a youtube visto che è un mio lavoro è una scusa con un'altra per prendersi più introidi possibili da parte di noi utenti che cioè noi youtuber che non sappiamo veramente come districarsi più da questa cosa perché comunque ecco prendete per esempio io non guardo la monetizzazione io guardo altri problemi ragazzi nel senso che darvi un video al giorno dovendo aspettare magari l'ok vi spiego l'ok da parte di youtube può essere da qualche ora a qualche giorno quindi è una cosa totalmente random perché magari io faccio un video oggi lo metto online magari aspetto quattro giorni da parte di youtube io quel video lo posso pubblicare soltanto tra quattro giorni ma più che altro non è un fatto di monetizzazione perché magari tra quattro giorni se mi arriva l'ok da parte di youtube mi arriva l'ok non solo per la monetizzazione che a me non me ne frega un cazzo ma mi arriva l'ok perché non c'è nessun tipo di copyright quindi io ho tutta la tranquillità di poterlo rendere pubblico quindi il giro da parte di youtube mi serve per questo per farmi dire da parte loro che non c'è nessun problema che non mi devo preoccupare che posso renderlo tranquillamente pubblico quindi se da una parte questa cosa è sicuramente la scelta migliore per quello che mi riguarda e purtroppo non so se potrò sceglierlo io o il mio network che lo sceglierà per me è sicuramente più sicuro però prendete per esempio la mandra la mandra gaming news io di solito se riesco la faccio il venerdì per il sabato in maniera tale da potervi dare sempre delle news più fresche possibili tra virgolette perché se vi do una news che ho letto cinque giorni prima e poi devo aspettare il giro di conferme da parte di youtube magari cioè è una è una notizia che magari voi avete già letto da altri da altri siti da altre fonti da altre notizie quindi si perderebbe un po la la freschezza delle delle novità che io mi posso trovare settimana per settimana quindi magari mi costringerei a fare la mandra gaming news di mercoledì per esempio di martedì per riuscire a darvela sabato come è stato finora quindi ragazzi è molto molto complicato perché il copyright sarà sempre più stretto è un copyright che ci sta praticamente strozzando ragazzi io per fortuna tocco ferro faccio tutti i gesti classici non mi è ancora mai capitato niente di cattivo niente di brutto niente di pesante da questo punto di vista quindi niente copyright strike e null'altro però ecco ci sono canali importanti ragazzi ma veramente importanti che hanno deciso probabilmente di dedicarsi l'ottanta 90 per cento agli indie perché con gli indie hai meno problemi hai meno probabilità di essere tacciato di copyright anche perché insomma una compagnia indie che fa un videogioco ha tutto l'interesse di farsi pubblicità tramite youtube tramite noi per esempio quindi è molto molto più difficile che magari si appellino al copyright addirittura eh piuttosto che magari fare eh ancora dei gameplay di titoli tripla o sicuramente più conosciuti rispetto agli indie ragazzi io non ve lo nascondo la la mandra gaming news in particolar modo è una rubrica molto a rischio specialmente con le ultime modifiche al copyright ragazzi è una è un rischio tenerla aperta però io lo faccio per voi perché comunque il gaming anche questo tenervi aggiornati su quello che sono le principali notizie videoludiche e rischio nel tenerla aperta ragazzi perché se canali da 70 da 70 mila 80 mila iscritti hanno deciso di voltare quasi completamente pagine di ritenersi un gameplay di un titolo tripla che ne so un resident evil per esempio e fare tutto il resto flash e indie games e c'è da riflettere ragazzi perché comunque magari un canale da 70 mila 80 mila iscritti sicuramente eh è più addentrato sulle meccaniche di youtube e le meccaniche di affiliazione le meccaniche di partnership rispetto a quello che posso essere io che eh abbiamo 1800 e passami cionzi eh ne sapranno qualcosa più di me quindi se questi canali giganteschi hanno deciso di fare una svolta così evocale ragazzi un motivo ci dovrà essere io ho io ho veramente paura per il nostro canale ragazzi che comunque sia a prescindere se mai succedesse qualcosa non finirebbe nulla io comunque sia riaprirei qualcosa da qualche altra parte magari non farei più un video al giorno ma non per non per non per chissà quale motivo oscuro ragazzi però ecco fin quando me lo fanno fare io cercherò sempre di fare un video al giorno poi se mi chiude il canale ragazzi io cioè penso che mi prenderebbe una botta clamorosa di tristezza proprio quindi farei magari un video ogni tanto eh però vabbè non pensiamo non pensiamo a cose brutte sicuramente non succederà nulla ragazzi però io vi dico le modifiche al canale potrebbero esserci anche per noi e dipenderà appunto da quante modifiche ci saranno probabilmente a fine gennaio se la mia partnership deciderà o meno di mettermi tra manager e affiliati ragazzi perché se mi mettono su manager e non mi danno la possibilità di scelta è rischiosissimo perché io magari pubblico una mandra game news e il giorno dopo mi arriva un copyright strike cioè io veramente ad ogni ad ogni upload e pubblicazione ci avrei un brivido qua dietro la schiena che mi mi attanaglierebbe tutto tutto il giorno perché magari mi arriva una mail di copyright strike e uno mancano due e sei fuori cioè non la vivrei nemmeno più con tanto con tanta serenità ecco quindi speriamo ragazzi io veramente questo è un blog ho bisogno di farlo perché tantissimo tempo non sono stato bene non ho potuto registrare nulla e volevo sapere come stavate quindi scrivetemelo nei commenti e scrivetemi anche cosa ne pensate di queste modifiche al tubo ragazzi quindi speriamo di uscirne vivi cioè speriamo veramente di uscirne vivi ragazzi quindi veramente io vi invito sempre a supportare il nostro canale con un commento un mi piace una condivisione insomma ormai lo sapete benissimo meglio di me quindi ora il tempo di fare l'upload di questo video ve lo sparo subito poi oggi alle due presumibilmente avremo un gioco adesso vediamo sceglierò tra i due tre video che mi erano rimasti da natale perché avevo voluto registrarne di più ma ovviamente poi è arrivata la febbre la febbre 39 oltre poi tutte un sacco di altre cose quindi ma ci rifaremo ragazzi ci rifaremo quindi aspettatevi novità da parte del vostro mandruccio che non si rende mai ragazzi perché il mandra è di temperatura e forte non si direbbe perché sono stato male fino a due giorni fa però io davvero vi saluto vi ringrazio vi rimando al prossimo video vi mando un abbraccione e mi raccomando riprendete questo 2014 con tutte le vostre mandrose forze e che i pugni nelle mani siano sempre con voi see you soon iscriviti al canale